ciao a tutti e benvenuti sul mio nuovo canale in my secret garden io sono massimiliano e questo sarà una sorta di contenitore in cui condividerò con chi lo vorrà le mie passioni che vanno dalla skin care all'abbigliamento e dalla musica fino al wellness quindi se vi va di conoscermi iscrivetevi al mio canale e se volete attivare la campanella su in alto per ricevere le notifiche in tempo reale di quando caricherò i video prossimamente posterò anche altri video in cui vi parlerò un pochino di me nello specifico e così potrete conoscermi meglio per il momento vi saluto vi ringrazio di esservi imbattuti nel mio canale e spero che rimarrete ciao a tutti